vai siamo sul set di oggi no come potete vedere sono un rapper che mi piace prendersi in giro ho una certa reputazione io stiamo per spaccare un iphone non sarà un fotomontaggio è tutto vero spaccheremo un iphone in diretta non c'è computer grafica bravissimo non c'è computer grafica speriamo si spacchi bene abbiamo un one shot one kill cazzo che figo che sono in mezzo tutto materiale per poterlo spaccare nella maniera giusta ok apple succhiate mila minchia